tutto quello che è successo nel corso della prima puntata di lunedì 11 settembre 2023 chi sono i concorrenti e il primo televoto è arrivato il momento per il pubblico di canale 5 di scoprire l'inedita edizione del grande fratello vip in ip alfonso signorini ha inizialmente presentato cesara buonamici come sua unica opinionista e poi si è detto davvero molto emozionato fatto questo il conduttore si è lasciato andare a un discorso per spiegare il motivo che l'ha portato a scegliere un cast composto da persone note e non a questo punto è arrivato il momento di presentare il primo concorrente uno dei non famosi si tratta di paolo masella a 25 anni è di roma e lavora come macellaio il suo obiettivo è quello di non far lavorare più sua mamma non ama molto i social network ed è apparso subito agli occhi del pubblico come un ragazzo simpatico e di compagnia subito dopo è stata presentata giselda torresan uno dei nomi già svelati nelle scorse settimane da tv sorrisi e canzoni ha immediatamente attirato l'attenzione del pubblico con il tono alto della voce e il suo accento veneto dettagli che la renderanno riconoscibile prima di entrare nella casa giselda ha ricevuto un video di saluti da parte degli altri operai della fabbrica in cui lavora dopo di lei ha varcato la porta rossa rosy chin cuoca e influencer quest'ultima è nata e cresciuta a milano la nuova concorrente è sposata e ha tre figli ed è arrivato il momento di presentare due dei concorrenti vip di questo grande fratello ovvero massimiliano varrese e alex schweiser quest'ultimo dopo il video di presentazione ha avuto modo di rivivere la sua ultima vittoria olimpica nello stadio di pechino e l'atteggiamento di alfonso ha generato qualche critica la puntata è andata avanti con l'ingresso di un altro volto nip ovvero giuseppe garibaldi porta questo cognome con onore è originario della calabria e lavora come bidello per ottenere questo lavoro si è trasferito in veneto subito dopo ha fatto il suo ingresso angelica baraldi un'altra concorrente non famosa quest'ultima è di modena e lavora in un'azienda informativa come account manager